Qualcuno mi ricorda una domanda che ha fatto, cosa manca Giuliano per essere il numero uno? Ma questa è una bella domanda, io devo ammettere una cosa, che vedo in me stesso negli ultimi anni una differenza, infatti i risultati sono sempre a migliorare, perché bisogna anche maturare come persone, i numeri uno che ci sono adesso, parlo di Mirko, Gianluca, Migliano, hanno tutti almeno dieci anni più di me, quindi non sembra ma quello fa anche la differenza, poi dipende, sono sfumature, passo la parola a Dino che ha la risposta. Giuliano è troppo intelligente per essere il numero uno nelle bocce. Dino, lo dico pure io, è un complimento che ti ha fatto. Non solo questo, la convinzione secondo me la sta acquisendo veramente anno dopo anno, mese dopo mese, gara dopo gara, ma quando ho detto troppo intelligente pensavo al fatto che all'intelligenza legavo una molteplicità di interessi che magari quelli che proprio sono i numeri uno non hanno. Probabilmente per essere il numero uno in questo momento, perché secondo me lo diventerà nonostante la sua intelligenza, per essere il numero uno in questo momento bisogna essere concentrati esclusivamente sulle bocce. Allora io vedo questo nel panorama boccistico italiano, agli alti livelli, i primi dieci giocatori, dieci, quindici, insomma di voi. I numeri uno sono concentrati solo su questo e nonostante Giuliano, perché adesso stiamo parlando di Giuliano, non sia concentrato al cento per cento solo su questo, riesce a stare alla pari. Allora, questo che significa? Che probabilmente lui è meno costruito di altri, ma questo non significa che per gli altri è un difetto, anzi forse è un merito avere tanta costanza e tanta forza per riuscire a costruirsi fino a diventare il numero uno, ma sono sicuro che appena ci sarà una piccola breccia psicologica nei numeri uno di oggi, Giuliano diventerà naturalmente il numero uno perché ha le qualità per esserlo e a quel punto l'intelligenza sarà quella qualcosa in più, l'intelligenza e la molteplicità di interessi sarà quel qualcosa in più.